Legge il nick di Yumi? Figa! Ma si chiama Figa! Oddio non l'avevo visto, vabbè Yumi è Figa Allora Bellissimo nick comunque Dai, aggressivi Il tuo capsule è attivo, sì Sì, sì, qualcuno disattiva il capsule lock di Mena Che game è? Il terzo? Sì, come è scritto là Della live è anche il terzo della live Ma perché piove qua dentro? Niente zia, sono stato fillato a botlane quindi ho preso Ash di nuovo Non stavi seguendo dottor Pippo, male male male, come ti giustifichi? Amici del tubo, benvenuti in questo nuovo video, è un po' che non faccio le intro e forse questo mi porta sfiga Però, ciao! Allora Io sono cugino, re delle pentekill, esperto delle troll pick e dottore dei bronziti E adesso dobbiamo fare Ash con Leona Vediamo se ci va bene Abbiamo tanti cecino i due Però loro hanno Samira che fa la breakdance e ci farà tutte le abilità Sì, sono molto aggressivo Level 2 Ok Dai dai che mi sto facendo delle belle robine qui Preso, incredibile che sia riuscito a prendere quel carretto, l'avevo visto morto mortissimo Ma cosa ha fatto la Q di Yumi, mi avete visto? Ha fatto uno scalino Mi piace molto che Leona non può fare niente se io continuo a pushare così Mi lascio pushare un po', dai Volevo farli pushare ma li li ho ingaggiati lo stesso Ora dovrebbe, diciamo, circa resettarsi la questione No Sono ancora molto Per loro la wave è messa bene per loro Dai 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 Ci facciamo tripla qui Scherzavo Troppi scudi non gli ho fatto danno Prego non fate kill Ok No, Samira balla e viva la breakdance Sì sì, Samira ha fatto la mossa della breakdance e niente più danno Ok Lo sai che forse in early game Ash può funzionare meglio in top full letality per spaccare i tank Ma sei pazzo Come ti vengono in mente queste cose Adesso non pusha più Teniamo la wave qui così Carretto puoi prenderlo Lo stanno prendendo molto farm Dai ti prego Leona vacci Ma Leona che fai? L'ho slowati 4-5 volte con i miei attacchi Ho detto al tempo al massimo Lei, boh, ferma La E non la facciamo, eh Dai Fai sta cazzo di E Se seguo la wave in contemporanea su Twitch YouTube distruggo il multiverso Praticamente sì perché mi stai supportando il doppio Cioè quindi Tutti quanti sono lì che dicono porca puttana Dai Eh vedete perché non la faceva Leona Perché lei fa la breakdance Uddio Uddio signori L'ho uccisa io Mamma mia Mi hanno fatto la kill solo perché Samira ha ingaggiato stupidamente su di me Dopo che si era salvata Samira ha detto Vabbè allora Muoio Se mi avesse aiutato ad attaccare la torre tipo 2 hit Ok l'ho fatta lo stesso Io me ne vado Anzi no aspetta possiamo stare Ne abbiamo il 6 Lei non ce l'ha Minchia che super combo Peccato per le kill però dai Felice lo stesso per le combo Due assist vabbè dai Eccomi qua il multiverso è andato Ciao chef Non ha potuto fare la breakdance è arrivato il sole Contro quello si fa ben poco Allora Trinity consigliano qui I can't buy pink Sorry Ma nessun problema Me too I have only now Dai 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 Io lo slow Madonna Quando Ash ti prende Ash fa pochi danni perché può fare questo Il problema è che Non in tutte le situazioni questo è utile No leone Ash è molto forte Tanti cc Il problema è che loro hanno la breakdance Ora non ce l'ha però Mamma mia leone bravissima Però vai via dalla torre Brava Guardate guardate che l'animazione è fatta benissimo Quanto mi fanno incazzare sta cosa Guardate che prendiamo tutti i campi Sono quelle le cose importanti per la Riot Infatti mamma mia che nervoso Queste cose sono fatte benissimo E sono delle cazzate enormi Ok 3-0 Sindrine Facciamo una build Un po' più Tancosella Perché ho paura di Diana e Sindra Che mi one shot Comunque 5-1 Non è male Non ditemi che questo è il Volibir Della build di Volibir 5-1 Minuto 10 Not bad Già 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 Facciamo partire Anivia guidaci Mamma mia leone Bravissima Bravissima ragazzi Ma porca troia Vieni qua che ti limono In game Altrimenti Alberto e Armando si arrabbiano Ma perché io mi non avevo vita Infatti non ho capito come mai Già che giro live notturna vedo Eh sì Non faccio mai live a questi orari Infatti oggi è un'eccezione particolare Stiamo facendo delle robe Nuro arrivano e muoiono Perché abbiamo una combo troppo forte Troppi cc Infatti c'è del sonno Fanno in ff No dai Speriamo che Leona non si arrabbierà Quando vedrà che devo fare 30 kill Forse mi farà uccidere Sindra no però Cazzo devo farmi uccidere da Samira No forse è meglio Sindra Perché se Samira Prende troppo Recupera E one shot a tutti Invece Sindra è ok Ciao cugino come va Ciao Elia Tu? Non ho risposto Se l'ho detto tu Me ne sono accorto adesso Vabbè tanto chi se ne frega È ovvio che uno dice sta bene Sono cose di rito Sì sì Ciao e tu? Sono cose di riot No Prego È arrivato il cauditore Minchia raga Questa mi stermina No invece Non avevo la ultima Non si sa per quale arcano Fortuno Dieci ragazzi Dieci al minuto Quattordici Sono tante Sono poche Sono belle Guarda guarda I miei uccelli Vedo un tutto Cazzo quello Merda Ho pure ultato Per cercare di prenderle Ciao io sto Tu stai Ciao stai Ciao chef Quindi diresti più XD Ciao gino ti giuro Guardi i tuoi video Da una vita ormai Sono super chill Super informativi Stupendi Volevo soltanto chiederti Forse mi sbaglio Ma lei è di Bologna? Sì Lo sono stato per 28 anni Non lo sono più adesso Però sono contento che Tu mi abbia detto questo Dovrebbe essere tapparellato Tutto ciò Oh no No Peccato Good job Disse Steve Qua mi vedono Va bene Ti ringrazio Zesty per il tapparellaggio Lei è veramente Una bravissima moderatrice Effetti sul colpo Vogliamo provare a fare Quindi il Terminus Eguinso Vogliamo Proviamo a fare sta cosa Sei stato di Bologna Ma hai smesso di essere nato lì No no Sono stato lì per molto Cugino lunedì Lunedì mi laurei Sei felice per me? Certo Cazzo Farò io Il discorso Di che zona eri? Sud Non di Bologna Ero in un paesino Sud di Bologna Mi stavo 20 minuti 20 minuti in auto Specifico In autobus 40 A piedi 2 o 3 ore In bicicletta Ma che cosa sta succedendo? Troppe ward Non posso più pingare No Ho fatto un errore magico Ne ho fatti due Però va bene Dai Per le kill Questo e l'altro E Syndra spero che tu stia ammazzando tutta la mia squadra intanto Io non l'aiuto Quanti soldi? Adesso però ci vedono Cioè sono riuscita a mettere A trovare il punto dove la nostra pink non fa vedere Che geniali Ho capito perfettamente forse Io sono di San Donato Ma ormai vivo all'estero a tre anni Lasciare Bologna è veramente tosta Si dice così no? A Bologna si fanno bene due cose Tortellini E boh Allora Lasciare Bologna Mi dispiace molto per il cibo Perché lì c'era tutto il mio cibo mega preferito Oh cazzo Oh sorry L'ha preso lei? Si l'ha preso I miei cibi preferiti sono tutti di Bologna Ragù I tortellini Le lasagne Ok Tutte cose buonissime Cioè Fantastica Bologna per il cibo Una cosa che non sanno fare a Bologna Sono gli aeroporti Vabbè ci hanno provato una volta Magari la seconda viene meglio Però non so Anche la droga no Quello non lo so Io comunque non vivevo a Bologna Bologna Perché non mi piaceva Bologna Mi piaceva solo il cibo Non mi piacevano le persone Non mi piaceva l'ambiente Era buono solo il cibo Non mi piaceva Nella città Nelle persone Nell'ambiente Proprio Per questo Per fortuna non ci vivevo E non avevo a che fare con Dei Bolognesi O qui dietro c'è qualcuno E poi di Bolognesi Mangiai solo tortellini Amore E il ragù E le lasagne Eh insomma Io sono te Samira Senti quando faccio le kill Senti Senti Oh Sindra si è salvata Mi e Leona Too strong I will do an evil thing In all chat I'm not A bad guy FF for me Facciamo il terminus Facciamo il terminus per sopravvivere un po' Ma come si fa il terminus con due archi Ah ecco perché la gente prendeva due archi Io pensavo che fossero un hobby Vabbè È stata una gentil scoperta Grazie Tommy del Prime Oltre a essere Conoscermi su YouTube Ora sei pure abbonato su Twitch Grazie 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 Buongiorno Buongiorno Middifxd L'importante è appoggiarlo bene sui nemici E far capire chi è il più forte E la cotoletta Sì anche la cotoletta Però non so se mi piaceva di più Quella bolognese o milanese Non mi ricordo Il nome Di quella che piaceva a me Una mi piaceva L'altra no Purtroppo mi dimentico sempre I nomi delle cose Ad esempio C'è stato un periodo in cui Non riusciva a riconoscere Il sale dallo zucchero Perché erano uguali Come aspetto Poi ho capito Come funzionava Il sapore Differente Stai con Leona Però se sto con Leona Facciamo troppe kill Dovrei fare kill Quando può Il mio team Solo che Leona aiuta Il mio team C'è Purtroppo fa bene Ia Che cazzo è Se muoiono E' buono Purtroppo devo far morire Leona ragazzi Lo so che è triste Ma purtroppo va fatta Pensavo fosse morta Invece ce l'avevo addosso Guarda qua come si fa Doppia uccisione Cosa Questo si chiama Inting Non fatelo Nelle vostre partite Non prendete esempio Per favore Ok Giusto Vi faccio vedere Cosa non dovete fare Nel vostro game Io Lo faccio io Così non lo dovete fare voi Ok Pollage Madonna quanto tempo che non sentivo sta parola Sa una specie di forma di autismo Io non sapevo distinguere l'albume dal tuor Non sapevo quale fosse uno o l'altro Esatto perché neanche io lo so E ancora non lo so L'albume è Non lo so Potrebbe essere tutte le cose dell'uovo Trust me I have 3.000 points on leona I know But I have to do I can't help you Too much E' bravo leone lo so I'm doing a challenge I need to do 30 kills Eh Dai glielo dico son gentile anch'io Cazzo Ti prego ti prego ti prego ti rivego Cazzo Non ho presa neanche una Vedete leone è troppo forte ragazzi Help mi leona non my team Rap mia Tu guardate cosa fa La tua squadra Si tratta La tua squadra La tua squadra La tua squadra La tua squadra Si tratta Tuorlo quella gialla Grazie mille L'albume è aperta bianca Ok Mi sa per dire che il tuorlo Era tipo il guscio Dell'uovo Perché mi sa tanto Di una cosa Dura il tuorlo Capito Ok Qualcosa che sta di contorno Tuorlo Capito Tuorlo maggiore albume Vabbè tanto non mangio niente dell'uovo Lo mangio solo nella carburara E in tantissimi altri piatti Dove non lo sento Non deve essere il main sapore L'uovo Sempre umile Sei un grande Grazie mille Qua siamo tutti in scialla E viviamo nel chilling Ma noi l'importante qui Per noi è fare balotta E per il resto Pollage Sei tranquillo Vez Ecco Usiamo questi bellissimi termini Oh no Ok ok No Non la vedo più È invisibile Se io non la vedo Lei mi uccide Lo sapevo cazzo OMG I'm un installing Bye Ok go 30 kill Sì Seriously You are my knight Il mio cavaliere Si dice così Spendiamo questo Look or giungole Wait for me Come facciamo a fare 30 kill? If you kill Them before my spawn I can't do 30 kill One shot Eh eh Tanto Sindra è felice Ma one shotato E scrive così Vabbè Andiamo bot Ma il termine Se si attiva solo Se attacco i nemici? Perché non vedo Che la mia Forse sì Ma cosa sta scrivendo Marghe Zesty Ma cosa gli hai detto? Ma non c'entra il mio palato A me piacciono poche cose Ma sono buone Ok ok Sto la prendo Impazzisco Kennen Brava Leona Diglielo Il team non aiuta I try Forgive you 30 kill Ok Andiamo Andiamo L'aggiungiamo agli amici Facciamo permanent Due con sta Leona Ragazzi Tutta la challenge Con me si fa Cioè sarebbe Secondo me Un onore Cazzo Allora Come facciamo qua? Basta Vuoi unshottarmi Non posso giocare Così Termino Andarsene a fanculo Ma non uccidete Tutti Non ce l'abbiamo fatta No No You are killing too much Due volte esploso Da sta cazzo Di sindra Che premere Ben 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 Eh mi ascoltano Sì La Coca Cola Non la mangerò mai Zesty Quindi Non ho ancora Voluto assaggiarla Perché ho paura Che poi mi piace Perché mi hanno detto Che non è che faccia Molto bene Bere tanta Coca Cola Allora ho detto Boh nel dubbio Non l'assaggio Così Non so di cosa sa E non può farmi male Se non la bevo mai Capito? Cioè è geniale È un po' come dire Mi hanno detto Che la droga fa male Non mi drogo Cioè Non è che provo Eh No Questa con la breakdance Ha distrutto La mia frecciona gigante Hai ragione Visto? Ha senso il ragionamento Non è che Sono pazzo io Come si rimuove L'abbonamento? No Non scoprirlo È meglio Non saperle Certe cose Come ben sappiamo Abbiamo appena Sindra è riuscita Comunque a uccidermi Abbiamo 25 kill La partita è finita Nota Dio Allora Peccato Peccato davvero Ci siamo arrivati Molto vicini Comunque Dicevi? No niente Non mi ricordo Vabbè Brava comunque Leona Vorrei onorarla Però non funziona Ok Voglio dire Sarriash For no 30 kill I'm so sad now E vabbè But you Best Leona ever Eh sì Sorry sorry Moverina è triste Minchia ragazzi A 3 milioni di punti Con Leona Aveva questa Non la ritroveremo mai Una persona così forte Con Leona Con cui fare duo Almeno Non fino al prossimo Game Perché ovviamente Il prossimo game Ci sarà un premade Che sarà più forte Di Leona Dato che giocherà Per aiutarmi E non per non aiutarmi Eh Marghe c'è Perché potremmo farlo adesso Questo quarto game Se non deve andare Veniamo un po' Di là E Marghe Mi indica Lo schermo Sto giocando a TFT Neanche dice niente Pum A dei niente